Il bando redatto dalla Giunta Comunale di Gela in merito all'affidamento ai pescatori dei box finanziati dalla Comunità Europea ha creato malumori. Per l'Associazione dei Pescatori, presieduta da Davide Calabrese, si tratta di un bando che determinarà figli e figli astri tra gli operatori del settore, tra chi avrà l'attribuzione del box e chi invece rimarrà senza. Una discriminazione che, secondo i pescatori, sarebbe determinata dal fatto che l'assegnazione verrà fatta in forma singola e non associativa, fomentando così le divisioni tra gli operatori del porto. Questo bando, affermano i pescatori in una nota, definisce chiaramente il carattere dispotico e fallimentare dell'amministrazione comunale. Nessuna concertazione con l'Associazione dei Pescatori, unica nel territorio come oggetto sociale, ma tutto frutto di scelte autoritarie. L'immotivato enorme ritardo ha alla fine prodotto un bando di affidamento che è un'offesa chiara ai padri di famiglia che vivono del loro lavoro di pescatori. Ancora più grave è il fatto che lo stesso bando, redatto senza alcun tavolo di concertazione con i soggetti a cui era destinato il finanziamento, nega i box a chi ha la licenza da meno di tre anni, lasciando fuori i più giovani nel momento in cui maggiormente dovrebbero essere aiutati ed in contrasto con tutte le norme di imprenditoria giovanile, nonché con i requisiti dettati dal Fondo Europeo Affari Marittime e Pesca, fondo che ha finanziato le strutture. Il bando, rimarca calabrese, costituirebbe una trappola per i pescatori che decidono di partecipare. Il bando prevederebbe infatti, oltre ad una forma assicurativa, anche la manutenzione dei manufatti in legno a carico degli affidatari, già ad oggi deteriorati senza averli ancora affidati a causa del forte ritardo da parte della Giunta. A tutto ciò va aggiunto la mancanza di acqua e luce nei box come da progetto iniziale e la mancanza dei gradini di accesso, considerato che l'ingresso si trova a 75 cm dal piano stradale. La situazione avrebbe cercato di interloquire con il responsabile unico del progetto, Torino Collura, proprio per discutere di questi problemi, ma fino ad oggi non avrebbero ricevuto risposte. Il finanziamento, sostengono, destinato solo ed esclusivamente ai pescatori, prevedeva anche un'attenza struttura con annessi i servizi come i banchi refrigerati per la vendita del pesce, le bilance, l'idropulitrice, la macchina che produce il ghiaccio, due celle per il deposito del pesce, due colonnine per erogazione di acqua e luce ed altrettante con dotazione di salvataggio. Anche il container dei servizi igienici è inutile, essendo incompleto nel tetto e nei servizi. Strutture e attrezzature dunque inesistenti. Ciò che si chiedono ai pescatori è dove siano finite queste attrezzature e a chi vorrebbero destinarle, considerato che il fondo era solo per i pescatori? Certamente, si legge ancora nel documento, la maggioranza dei pescatori non cadrà in questi tranelli e non sarà complice delle violazioni delle regole comunitarie che certamente vi sono, così come hanno già rifiutato la sola escavazione dei fondali per non buttare inutilmente i fondi pubblici.